Cosa vede di buono e cosa vede, se vogliamo, anche di malo in questi 90 minuti? Di male niente. Nel primo tempo è stata una partita tattica, diciamo, dove a differenza di altre volte abbiamo aspettato un pochino di più per non concedere quello che loro erano molto bravi, che loro sulla lancio lungo, giocata sulla seconda punta, hanno messo in difficoltà tutti. Noi con l'Atletico Ascoli, per prenderli troppo alti, abbiamo sofferto un pochino, abbiamo speso tanto fisicamente e oggi abbiamo deciso di stare un po' più bassi. Naturalmente l'episodio è venuto nel secondo tempo, ma secondo me il gol che ci hanno annullato era regolarissimo. Nel primo tempo c'è stata qualche decisione arbitrale un pochino che fa a discutere. Poi però nel secondo tempo la squadra è entrata in campo con grande consapevolezza, sapendo che aveva già costruito qualcosa di importante nel primo tempo. Nel secondo tempo è venuta fuori la caparbietà. Poi, ripeto, venivamo fuori da una settimana un po' particolare e ci tenevamo a riprendere la strada che avevamo lasciato all'Aquila. Sono molto contento, la classifica è bella, però ripeto, ci tenevamo a riscattarci, non per il derby, perché il derby è una partita a sé e quella l'abbiamo persa. Ci siamo riscattati contro una squadra importante che lotta come noi per le posizioni di vertice. Perché il Presidente poi, proprio qualche istante fa, ai nostri microfoni non si è nascosto. Vuole sognare in grande, vuole fare di questa vezzana, insomma, magari un passo in più, non si accontenta neanche del secondo posto. Noi, ripeto, quando ti dico che non vogliamo deludere né società né tifosi, è proprio questo che intendiamo. Noi sappiamo che il Presidente sta facendo grandi sforzi e che vuole arrivare a un obiettivo ben preciso. Però c'è anche da dire che non si possono vincere partite tutte 3-0 giocando come gioca il Barcellona e il Manchester City. È normale che tutti ci aspettiamo sempre qualcosa di più, però c'è sempre da dire che dall'altra parte ci stanno squadre che preparano le partite come le prepariamo noi. E ribadisco, aver vinto oggi contro una squadra che veniva da 5 vittori consecutivi, che aveva il miglior attacco, aveva una squadra molto fisica, sulle palle da fermo concedevamo tanti centimetri. Però i ragazzi oggi non hanno sofferto niente e hanno approfittato di quelle che sono state le occasioni che ci sono capitate. E quindi sono molto contento e ribadisco, spero che prestazioni come quelle dell'Aquila non ne facciamo più e che quando sarà per una sconfitta sarà perché hanno meritato gli avversari nel campo. Per concludere, questa è stata l'ultima partita del periodo novembrino, si apre appunto dicembre, si apre il mercato, il Presidente ha anche parlato di questo, detto che si può intervenire se vogliamo anche la festività del Natale. I desideri magari sotto l'albero di mister Ferazzoli per rinforzare questa vezzano? Allora, questo è un discorso che dovete fare esclusivamente col Presidente, perché parliamo noi, però io, come ho detto ai tuoi colleghi, fare la formazione non è complicato, scegliere i primi sette della panchina non è complicato. E' quando devi scegliere gli ultimi due posti che lo fai in base a quelle che sono le esigenze della squadra che affronti e le tue esigenze. Vorrei ricordare che oggi andate a tribuna Pertosa, Costa Ferreira, Bolo, Luciani e La Penna. E quindi non mi sento di parlare del mercato. Il Presidente sa di quello che abbiamo parlato con i direttori, però ribadisco, io al momento preferisco parlare dei giocatori che ho, che ripeto, sono costretti in tanti ad accettare anche la scelta della tribuna e mandare la gente in tribuna non è una cosa semplice. Per concludere, questa persona quindi, quanto può farcela? Quanto ci crede di Sperazzoli? Noi non dobbiamo creare aspettative e poi deluderle, noi dobbiamo alimentarle con le prestazioni come oggi. Ribadisco che non possiamo vincere tutte le partite perché non è semplice, però dobbiamo impegnarci per cercare di giocarne il meno possibile come quelle che abbiamo giocato all'altra.